che tempo farà nelle prossime ore? Domanda che noi rivolgiamo a il meteo punto it. Tendenza al miglioramento nelle prossime ore ma qualche temporale potrà ancora aver luogo sull'Emilia Romagna centro orientale sui litorali centrali adriatici. Fenomeni più deboli e isolati infine sul basso tirreno. Nella giornata di mercoledì rischio temporalesco ancora moderato sulla Romagna sul medio adriatico sull'Umbria e al sud mentre andrà decisamente meglio altrove. Nel corso delle ore pomeridiane saranno poche le variazioni qualche pioggia o temporale potrà ancora verificarsi su Marche, Abruzzo, Molise, Basso Lazio e un po' ovunque sulle regioni meridionali sia pure a carattere irregolare. Migliora invece altrove. Temperature in lieve ripresa ma ancora localmente sotto media. Con le previsioni per il momento è tutto. Un saluto da Marianna Pagliarin del meteo punto it e a risentirci al prossimo appuntamento. Marianna Pagliarin. Smetti, l'hanno già cercata tutti. È una bella ragazza, è una bella donna. Ma no ragazzi, perché è una bella voce. Oh, è anche una bella ragazza, è vero. Sì, perché c'è la teoria che sostiene Paolo Piva? No, io, moltissimi. Dillo, 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 sei coraggio. Chi ha la voce troppo bella, a parte noi che facciamo, a parte chi fa questo lavoro e chi lavora con la voce, però chi ha la voce troppo bella, generalmente non è bellissimo. Nel senso che sai, la distribuzione delle cose belle. Sì, guarda come se la gira, se la è equilibrata, no? Se una è bellissima, non può avere anche la voce superfitta. Invece lei, la Marianna, salta al fosso delle Marianne e devo essere sincera, è una bella ragazza. Brava Marianna, brava Marianna.